Maestro, quali sono i prossimi impegni che la vedranno protagonista? Questo concerto è straordinario, Sacro du Printemps di Stravinsky, probabilmente la più famosa composizione del XX secolo, grande scandalo a Parigi, la creazione, il teatro Champs-Élysées, e dopo un grande successo per Stravinsky. E' importante per un'orchestra, perché questo repertorio, questa composizione, infatti è possibile dimostrare la virtuosità, la qualità dell'orchestra, perché è molto difficile, ma è molto, molto interessante, perché questa musica è adesso il nostro repertorio per l'orchestra. Ma legato con Sacro du Printemps, un altro compositore un po' più inconosciuto, scrive, ma questo centenario, questo l'anno, è di Prometheus, poème de feu, de fuoco, e con pianoforte come solista nell'orchestra, Maria Perrotta. E' una composizione molto straordinaria, infatti la differenza è entrare le due, Stravinsky, lui ha composto per ballet, ballet russi, e anche questa musica è molto classica, molto strutturata, molto formale. Scriabin è legato con questo colore, sinestesia, un Gesamtkunstwerk, è molto interessante per il pubblico di sentire, perché scriveva un po' mistico, un po' filosofico. Lui ha composto una composizione molto romantica, un contrasto inverso di Stravinsky, è molto classica, è molto strutturata. E anche con Carlo Bocodoro, un grande compositore italiano, lui ha composto Orbus Tertius, è infatti caratteristica di Stravinsky con ritmo, melodia, romantico, espressivo, come scrivono, e anche colore, colore, entrare le due. Le tre composizioni insieme sono fantastico per un'esperienza per il nostro pubblico, un pubblico che forse conoscono Stravinsky, ma è anche curioso per sentire questa musica di Bocodoro, un compositore importante per oggi, e per Scriabin. E facciamo non solamente qui, in Auditorium di Milano, ma anche facciamo un tournée in Montreux, in Svizzera, in Stravinsky Hall, per la season culturelle, di fare Stravinsky in Stravinsky Hall. Questo è un sogno. Andare al nostro concerto è infatti una grande, grande esperienza per tutti. So di farle una domanda difficile, le chiedo proprio di darmi la risposta il più breve possibile. Che cos'è per lei la musica oggi? La musica oggi? La musica oggi è come la musica sempre, è la voce dell'umanità, è la nostra conscienza, il nostro cuore, il nostro anima. Ma la musica può dire le cose che la lingua non può fare. Per me la musica oggi è il nostro anima, il nostro cuore, il nostro cervello, il nostro corpo, tutto. Come la voce di Dio nel nostro corpo.